Hey guys welcome back! Oggi andiamo a vedere come si può avere wifi gratuito in giro per la città E' buona, mi amico! Al numero 1 c'è Link NYC che è queste colonnine che vedete in giro per tutta la città E' wifi completamente gratuito dato appunto dalla città, vi registrate solo la prima volta con il vostro indirizzo email E dopodiché ogni volta che il vostro cellulare vede l'antenna si collega automaticamente Non è proprio non isolato però soprattutto in centro a Manhattan sarete ben coperti Se invece volete sapere altri posti dove non dovete consumare niente però dovete entrare in un locale Avete al numero 1 ovviamente l'onipresente Starbucks Non serve neanche prendere un caffè o un cappuccino, basta entrare dentro e vi collegate al loro wifi Al numero 2 consiglio un McDonald's, tipo quello di Times Square se proprio amate Anche quello completamente gratis Numero 3 i Dunkin Donuts, l'altro posto dove potete prendere o i donuts e ciambelle fritte o i caffè E poi ovviamente in tutte le metropolitane, la maggior parte delle metropolitane dovete scendere in piattaforma Lì avete il wifi gratuito Meglio date 5? Spero di sì Ok, alla prossima, ciao!